buona befana ragazzi buona epifania a tutti quanti mi permettete un piccolo sfogo oggi sportivamente parlando io non voglio entrare in altri discorsi perché su questo canale sapete che non voglio parlare di altri discorsi parliamo di sport parliamo di calcio in italia chi comanda chi dovrebbe comandare il calcio non capisce un cazzo prima di tutto ragazzi vi ricordo sempre di iscrivervi al canale mi raccomando massimo supporto iscrizione lasciate like attivate la campanella e commentate fatemi sapere sempre la vostra e poi velocissimamente se avete bisogno di tutte magliette da calcio pantaloncini calzettoni mascherine serie a straniere tutto quello che volete www.keycalcio.net mi raccomando avete lo sconto self 15 per cento risparmiate qualcosa e ragazzi vi lascio sotto in descrizione anche il loro gruppo telegram perché se vi iscrivete al gruppo telegram se fate parte del gruppo telegram di key calcio è completamente gratuito a giorni a breve ci sarà un'estrazione dove potete vincere un bellissimo premio ragazzi www.keycalcio.net ottimi prezzi ottima qualità mi raccomando ci conto sto parlando velocissimamente perché oggi è festa non voglio prolungarmi troppo quindi ragazzi mi raccomando www.keycalcio.net campionato falsato e c'è qualcuno che ha avuto il caraggio di dire di no perché i giocatori ci sono e possiamo giocare sì va bene ma se io se io ero in tutte quelle squadre compreso il milan che oggi dovevano giocare io oggi non mi presentavo io oggi non mi presentavo non andavo a giocare perché non è giusto non è giusto che ci sono squadre che vanno a giocare con 5 6 7 positivi e devono giocare e poi ci sono squadre che ne hanno 2 3 e l'asla ha bloccato tutto e non li vuole far giocare ragazzi è un sistema di merda e ragazzi non è giusto perché poi queste squadre che magari oggi non vanno a giocare andranno a recuperare la partita quando avranno tutti avranno i giocatori che poi recupereranno dal covid poi magari ritorneranno dalla coppa d'africa magari la partita viene recuperata a febbraio a marzo quando hanno tutti i giocatori a disposizione e poi ci sono squadre che invece oggi devono giocare con le pecche con le pezze al culo con il covid con i giocatori che sono in coppa d'africa non è giusto non è giusto a che sistema ha l'asl allora quello a 10 contagiati ma gioca quello ne ha 3 non gioca quell'altro ne ha 5 non gioca ma quello che ne ha 11 gioca ma che cazzo state combinando è vero adesso ci sarà gente che mi scrivere ma self ma ci sono altri problemi problemi più gravi ma siccome su questo canale parliamo di sport io mi fermo al calcio ma che sistema ma cosa vuol dire che ieri avete avuto due anni avete avuto due anni di tempo per cercare di sistemare la cosa per cercare di organizzarvi per fare un sistema per fare un protocollo non c'è un cazzo di niente decidete così a bambera come va la giornata ieri sera alle 9 meno 5 si scopre che quattro partite vengono rinviate poi però la lega fa la riunione no invece noi giochiamo l'aslo vuole bloccare ma la lega dice no non ce ne frega niente ma che sistema è fare la riunione alle 9 meno 5 del 5 il giorno prima la befana cioè il giorno prima del campionato noi noi giochiamo lo stesso poi ce la vediamo in tribunale facciamo ricorso ma che cazzo di sistema è questo è uno schifo è una vergogna io ve l'ho detto ve lo ripeto io adesso non so oggi come andrà a finire perché prima parlano di rinviarle poi la lega vuole giocarle poi riparlano di rinvio poi fanno ricorso io non so come andrà a finire ma se ci saranno delle partite che non verranno giocate e poi ci saranno delle squadre che andranno a giocare con 5 6 positivi io non mi presentavo io non mi presentavo perché non è giusto non è giusto giocare con le defezioni e poi sono squadre che andranno a giocarla questa partita verrà giocata tra 3 4 5 mesi quando avranno tutti i giocatori a disposizione questa è una merdata è una merdata ma anche il fatto come vi dicevo prima questi qua ieri sera alle 9 meno 5 fanno una riunione straordinaria noi andiamo lo stesso poi vedremo in tribunale intanto giochiamo ma cosa state dicendo ma cosa state dicendo ma comanda l'asl comanda l'asl che decide se quello ne ha 3 può giocare se quello ne ha 10 può giocare lo stesso ma che cos'è sta roba qua avete avuto due anni due anni avete avuto per organizzare questa cosa e siamo ancora in merda ragazzi ve lo ripeto sportivamente parlando perché qua si parla di sport io non voglio parlare di altro perché non sono argomenti da fare secondo me su un telefonino non sono argomenti da fare su un canale youtube che parla di calcio quindi questa è lo sfogo della giornata quindi vedremo come andrà a finire per adesso sembrerebbe che mila roma si gioca abbiamo 5 positivi speriamo che non ne salta fuori un altro ci sono delle squadre che hanno 3 positive non giocano tranquillamente perché loro hanno deciso di rinviarla io non lo so ragazzi c'è gente ieri sera hanno fatto partire le squadre già in viaggio e poi le hanno bloccate a metà strada ma ragazzi ma di cosa stiamo parlando ma di cosa stiamo parlando ci vediamo questa sera ragazzi iscrizione al canale sempre forza diavolo